Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Eurotrack Simulator 2 nella serie Vecchie Glorie. Come sempre ringrazio i moderatori, i moderatrici, gli amici e le amiche del canale e naturalmente tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. E non per ultimo, naturalmente, vi invito a seguire il mio canale TikTok che trovate nella descrizione, come sempre, si chiama Dublogistica 1. Quindi ringrazio i moderatori, i moderatrici, gli amici e le amiche e tutti coloro che mi fanno compagnia. E approfitto anche per ringraziare tutti coloro che si iscrivono qui a Twitch quando sono offline e ringrazio The Anonymous Girl 2. Grazie ancora, benvenuta e naturalmente benvenuti a tutti. Allora, oggi ci facciamo una bella trasferta, andiamo in Germania. Oggi trasporteremo i fuochi artificiali per la ditta Esposito che si trova a Fianaromano, ma la trovate anche a Capena www.dittaesposito.com Allora, adesso dobbiamo andare a caricare la situazione. Allora, mettiamo la... Allora, lasciamo così. Ecco qua. Willa, carissima, buon pomeriggio, grazie per il follow, benvenuta. Oggi si spostiamo in Germania e trasportiamo fuochi d'artificio. Ovviamente, per gli amici di TikTok, nel momento in cui avremo caricato, avrò messo la merce nel cassone, poi partirà l'hyperlapse o il timelapse che ti si voglia. e quindi vi invito, naturalmente, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto al mio canalozzo. Allora, vediamo un attimo dove che sta. Tutto bene, carissima. Buon inizio di settimana anche a te, naturalmente. Mi sono scordato che oggi, per molti di voi, la settimana inizia lunedì, ma per i frequentatori del canale, naturalmente, sanno che quando si inizia la streaming, hoppa, si inizia la settimana. Quindi, buon pomeriggio. Quindi, ancora benvenuto al Thank you so much. Oggi festeggiamo. Spariamo i fuochi. I fuochi d'artificio. Ovviamente approfitto anche per salutare gli amici e le amiche di YouTube che ultimamente vi state. Siete veramente in tantissimi che state facendo crescere i miei canali social. Thank you, thank you. Hi everyone, welcome to the stream. And first of all, I want to say thank you so much to people that are following my social media channels, friends, supporters. And if you are not a follower of my social media channels, you will find a few links in the video description. Here, with which I do, thank you, thank you. Allora, look, look, I don't love. Allora, questo dovrebbe essere già. Riprendi. Ah, ok, devo avvicinare, giusto, direttamente verso il punto di carico. Ecco qua. Naturalmente, se dovete e se volete provare la mod di Ralph Garage, vi consiglio di non andarla a scaricare su altri siti perché potreste trovarvi i virus nella descrizione del video, come sempre. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Trovate, oltre ai link dei miei canali social, anche il link per scaricare e provare la mod dal sito internet di Ralph Garage, oltre alla sua pagina Facebook e anche un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati in molti piattaforma fino a 70%. Eh sì, bello, bello rilassante per certi versi. Questa è una schema che ho creato io due anni fa. semplice, una foto che ho anche nel banner del canale, anzi, dei miei canali social. E' molto rilassante, infatti, in molti non ecco che lo preferiscono perché in single player, diciamo così, ci vuole anche un po' di situation. Allora, per gli amici di YouTube e per quelli di Instagram, ovviamente, anche quelli di TikTok, adesso parte l'hyperlapse. Vai, Zio Dab, vai con l'hyperlapse. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti quanti voi della splendida compagnia. Gaspari per il ride, vediamo un po', prima che faccio qualche figurage, risaliamo la chat. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.